L'aggressività si nasconderebbe in un'area profonda del cervello. Se qualcosa non funziona, l'alterazione del comportamento diventa una vera e propria malattia. Policlinico di Milano, Neurologico Besta e Università Statale, insieme per curare l'aggressività patologica. Grave malattia rara, spesso resistente ai farmaci, originata da un difetto dell'ipotalamo. Se quest'area profonda nel cervello non funziona, si scatenano comportamenti aggressivi e distruttivi, spesso associati a deficit cognitivi e a epilessia. I pazienti devono essere segregati e costretti alla contenzione. Il Besta ha fatto scuola nel mondo trattando la patologia con una metodica già adottata per la cura del Parkinson, la neuromodulazione. È un pacemaker che va a stimolare elettricamente le zone coinvolte in questo tipo di comportamento. I pazienti con malattia congenita sono migliorati, molti hanno lasciato l'ospedale psichiatrico. I ricercatori del Policlinico ora hanno registrato i segnali provenienti dagli elettrodi in sala operatoria e li hanno confrontati con i parametri di un paziente sano, risalendo così alla radice dell'alterazione del comportamento. Il paziente con comportamento aggressivo, l'attività ipotalamica era lenta, sotto i 10 Hz, mentre il nostro paziente di controllo, il paziente sano, aveva un'attività intorno ai 10 Hz, un'attività normale. Questo per la prima volta ci consente di capire intimamente la disfunzione di una determinata zona nel cervello in un disturbo molto specifico del comportamento, quale l'aggressività. Approccio multidisciplinare e progressi tecnologici hanno consentito di esplorare una parte del cervello finora inaccessibile, una porta aperta verso nuove terapie.